Sì, saremo presenti in questa edizione con un'opera realizzata da noi, un premio ispirato alla cipolla di Tropea, simbolo ovviamente della nostra terra, d'identità ormai della nostra storia e quello che è stato realizzato è una cipolla interamente realizzata in argento con smalti a fuoco, non abbiamo molto cambiato le forme di quella che la forma è il simbolo della cipolla perché volevamo fare fede a quello che è un simbolo ovviamente di identità. Io ringrazio veramente tantissimo il sindaco, ringrazio il dottor Daniele Cipollina per l'impegno che emettono nel promuovere e nel valorizzare la nostra terra. Per eventi del genere, con eventi del genere per noi non può che essere un grandissimo piacere e onore poter contribuire anche con la nostra arte. Grazie a tutti! Grazie a tutti!